il gioco di andata a stagione sul computer e' netflix personalizzata in sostanza privata oddio se mi ricordo ancora bene come si gioca io intanto ti aspetto online su brawala ti vedo offline quindi ti dico il numero della stanza cioè io ti vedo offline vedo online soltanto samu infatti aspetta fammi un po' invitare samu aspetta samu aspetta un attimo lo invito e parti lo gioca un pochino tutti e tre insieme dobbiamo subito dirgli che sto facendo un video e che non deve bestemmiare malissimo eh no sentiamo un altro però aspettate un attimo poi samu aspetta prima di dire qualsiasi parlaccia sto facendo un video non bestemmiare non dire parlaccia perché sennò succede ok tranquillo basta che inviti il pepe e quello che ti dimentica a lui aspetta non invito perché mi son preso aspetta puoi invitare pepe? eeeh mamma mia marcello mamma mia ho visto poi non è proprio questo eh va bene va bene ok boomer ok beh vabbè ah ma c'è marisa eh oddio oddio che è sto casinato questo casinato questo casinato oh invita invita pepe su ma comunque maria 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 ciao le cuffie le cuffie io sento così maria che dolore guarda ah pepe io stop a un video quindi niente bestemmiare porlacce per favore grazie a dio allora maria provaci e vedi come ti bestemmio madonna vengo a casa tua allora maria il numero della stanza il numero del ok ho mutato pepe così almeno ah il numero della stanza è 2 6 0 8 5 0 8 5 no nessuno abbandono il modo di anomali abbandono il modo di anomali ok pronti aspettino 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 un gioco da tante aspettino un gioco da tanto da bex quindi mi merito di non indossare niente no abbassi va a cagare vai ma bravo alla bravo alla non è di installare non lo usa con un codice e con un codice vediamo se mi ricordo come si gioca bravo alla vai non me lo ricordo ciao gay eh vabbè però stai calmo non me ne frega oddio mi hai salvato marigrande dagli anni 2000 ma che vuoi sono sono un abbetto ahia mamma ciao famu mio fratello ancora ti conosce sai mamma eh lo so vedo eh perché non ci ho colpito tre volte tre volte aiuto oddio no aiuto oh marisa ancora tre vite non è normale telefogniamo l'ambulanza il 128 non lo so schivo madonna marisa marisa cattiva marisa cattiva tiè te lo meriti no 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 bravo al no bravo bambino ha 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 invece si piccolo samu ha ha sto scherzando grazie grazie marisa cattiva ma non sono più il maestro delle bombette mi sa sai cacchio no non si dice non si dice spero che non si senta invidia taglierò tutte le parti in cui l'ho detto invece si può sì oddio oddio che lagata no ma che ti saluti babbano ho detto madonna io ti bestemmi un corpo ok però basta eh non comiti allora maria punto uno muta no no grazie aia ma 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 vai vediamo un combattimento mhm ecco combattimento equo quanto muta gallina mi dì mia sorella madonna questa volta uso caia i cereali i cereali aia non cosa mi è piaciuta per a me vediamo se mi ricordo le com muta geltrude non mi fa... mamma... uiii aia ma... no madonna no no ti volo tirare tutta cosa ahahah 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 tipo ha dato più tattico che abbia mai visto neanche io sappino non si dice del trudino mannaggia pippo mannaggia mannaggia topolino gallina infatti non è il suo turno è il doppio turno no è il tuo turno non mi ha fatto la mia pensavo in una cosa molto tattica no 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 ci sono morte cosa che non ci voglio credere ma qui già lo sai che non andranno a giocare allora ci credo che abbiamo fatto il giusto ok possiamo fare molto problemi il problema è che ora abbiamo il primo con la lì e una cavola non c'è mai 10.000 per te no oh no il coro il co il co eh non lo posso dire non lo posso non 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 ci vuoi non ci vuoi il covid 18 bravo così forse è una sottospecie di censura no spero di sì che è successo che è successo vai parla muto muto non si dice non si dice non si dice aia un covid 18 prendo tutti a pugni non me ne frega oddio lo sto per prendere io in quel posto altro che la fianza di Samu altro che la fianza di Samu eh aia oh oh saluto polino aia 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 una domanda servizio cioè io sto evitando che son che so che sono sto evitando tutti colpi manco anche lei però non scherzi aia 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 No No non si può morire ha fatto un double ma non si può morire ma non si può morire ma non si può morire lo sapevo attento è un gattaro è un gattaro è un pandegatti la bombetta puttattica che abbiamo mai visto dai Yumiko infatti non sto facendo a te sto facendo a Marilu ma il tuo cane ma tu ti chiami il Stan Carmo il Stan Carmel questo è il Stan Carmel carmelito carmelito il Stan Carmelito finisci il suo lavoro finisci ok pronto aspetta ok la spada ce l'ho pronto mettite all'angolo via bastardo che brutto fallo tattico non è introdurso mamma mia mi fai ecco ok sono troppo sono troppo no no che hai detto che hai detto schmuta e un bro mi hai detto Yonix ti conviene dire Yonix se non ci ha detto il suo lavoro che non è un pollo che non è un pollo ma non è un pollo i non è un pollo e non è un pollo no 3 2 1 4 io come Voi saperlo veramente come osa? Sucidatevi, sucidatevi tutti Beh, però ti ho ucciso quindi E poi io mi... Rape controller 2020 2020 Io Ahia Ti ho ucciso pure Marisa Prima Invece ti aveva ucciso Ti aveva ucciso Adesso Molesto Marisa Che dici? Hai rotto i 3 quarti di contro e di contro Non ti... Madonna, tu schio quitto Arrivederci Invece... Invece sono vivo Bastardo Attenzione Marie, un cerchio Due cerchi Marie, bastano due cerchi Due cerchi Marie, però se ti fa una mostra così Ah, giusto, due cambiamenti di tasti Due quadrati Eh, si suicida Sì Marie Marie, due quadrati, due quadrati, dai due quadrati Questa cosa mi ha addoggiato Questa cosa mi ha addoggiato Ok, uno E due Due L'unica Unica Unica Man Unica Perché L'unica Il Unica L'unica Unica io gioco a mad max mentre vi aspetto vabbè tanto ci vorrà poco invece oggi marini mi dispiace ok 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 no 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 muta aspetta io sono marie basta picchiare Samu però Samu intelligentone oggi guarda che è un video normale che pubblicherò su youtube live non è perchè non so perchè non riesco ancora a fare live è già quella trottola lancia bassana grazie marie no questo è un canale family friendly non si try hard e chi try hard è gay grazie Samu guarda non so ne ho visto ecco ho fatto pure tutto io come faccio per una vita guarda 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 Samu faccio così faccio così faccio così se faccio così se Samu arriva a una vita Samu si deve suicidare ok giusto marie se riesci a mandare Samu marie si io la muto perchè fa un casino incredibile ok io l'ho mutata marie fa un casino incredibile la sento pure attraverso il tuo microfono fra Gesù non si può vabbè guarda che colore è ciccio oddio allora puoi dire allora Samu puoi dire marie sa ok 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 però ciao no no tranquillo fra poco finisco il video e vado su Apex a giocare con a fare il video anche con lui si sono online dai su aspetta Samu marie sa che ha resa una vita quindi ti devi suicidare sei morto comunque niente ho Samu un cerchio Samu Samu basta un cerchio Gesù veramente sta durando troppo io mi sa che chiudo il video c'è cioè già fa bordo con Lorenzo no vabbè fra poco dovrebbe arrivare quindi noi intanto giochiamo e quando arriva arriva infatti ok raga e vabbè chiudo qua il video arrivederci bella bella boone